Snobato finora dai cugini francesi, il vino belga si fa spazio sulla carta dei vini del mondo. La ragione starebbe nel riscaldamento globale, che aumenterebbe la qualità e la quantità del prodotto. Le cifre del 2017 lo confermano. Il numero di produttori di vino è aumentato da 117 nel 2016 a 128 nel 2017. Cinque anni fa avevamo circa 80 ettari di viti per tutto il Belgio. Siamo passati adesso a 350, quindi siamo stati in grado di moltiplicare per 5 l'area e la produzione. Da cinque anni a questa parte le cose stanno andando bene. Jean Colles ritiene che il cambiamento climatico possa in parte spiegare il miglioramento della produzione belga. D'altra parte riconosce ad esempio che il sole di quest'anno modificherà il calendario della raccolta dell'uva. Credo che il raccolto verrà sicuramente anticipato. Normalmente il raccolto in Belgio va dalla seconda settimana di settembre al massimo alla seconda settimana di ottobre. Penso che molti vigneti e produttori di vino quest'anno faranno la vendemmia a inizio settembre. Ci spostiamo presso la tenuta Scenua vicino a Namur, la più grande area viticola del paese per vino rosso. Qui lavora Jean Bernard, esperto di cultura biologica, che si dice però scettico sull'impatto del cambiamento climatico sulla produzione vinicola belga. Sono molto prudente riguardo a questo argomento, perché prima di tutto non sappiamo se si può parlare di riscaldamento. Preferisco dire cambiamento climatico. Non sappiamo veramente cosa sta succedendo. E sono anche molto diffidente nei confronti degli eventi estremi. Abbiamo avuto un anno in cui è andato tutto bene. Fa caldo, è come nel Mediterraneo. Tutti i belgi sono contenti, lo sono anch'io. Ma questo non ci protegge da tempeste e grandine. Ovviamente vediamo che ci sono dei cambiamenti, un riscaldamento, ma non so dire se tra vent'anni ci troveremo nella situazione opposta. Per Jean Bernard, la crescita della produzione belga può essere spiegata da vari fattori. Le viti sono invecchiate e anche i viticoltori conoscono meglio le loro terre. E' necessario il territorio, le buone condizioni climatiche e un certo savoir-faire. Questo non può essere improvvisato. C'è bisogno di teoria, ma anche e soprattutto di pratica. Essendo invecchiate le vigne, iniziamo ad avere un ecosistema di vino belga che esiste davvero, a differenza di 20-25 anni fa, dove ci sentivamo molto soli. Ma un vino di migliore qualità, sia belga o no, viene comunque consumato con moderazione. Si stima che il consumo in Belgio sia di 300 milioni di bottiglie all'anno.